Siamo in un periodo natalizio e allora, dopo il video su quelli che secondo me erano i top film finanziari di sempre, volevo lasciarvi un video con alcuni film finanziari leggeri, diciamo pure commedie finanziarie, da vedere durante le feste. In questo video vediamo quelli che sono secondo me i top 5 film finanziari in versione commedia. Se vi piace il video mettete mi piace, iscrivetevi al canale, io sono Alessandro Lazzaro e vi parlo di economia e finanza in modo chiaro, semplice e completo. Prima di entrare nel vivo della lista, come avevo fatto per i video sui migliori film finanziari, vi dico subito che ho escluso le due commedie finanziarie più comuni perché ho voluto dare spazio a film più particolari. Quindi ho lasciato fuori, anche se sono bellissimi film da vedere assolutamente, Il lupo di Wall Street di Martin Scorsese e La grande scommessa di Adam McKay. Detto questo, cominciamo con la nostra lista dei film finanziari leggeri. Numero 5, La sete del potere di Robert Wise. Questo film è del 1954, ambientato a New York e tratta di quello che succede quando muore un amministratore delegato di una grande multinazionale e i vari dirigenti lottano per il posto. È un film ovviamente che ha i suoi anni, ma lo metto in lista perché c'è una cosa che mi ha colpito tantissimo e cioè la modernità degli Stati Uniti. Grattacieli, multinazionali, consigli di amministrazione, organizzazione aziendale degne dei giorni nostri. Insomma, La sete del potere disegna una società che potrebbe benissimo rappresentare la situazione attuale, aggiornata su alcune cose, ma la sostanza non cambia. Se prendete un film italiano di quegli anni, che sono bellissimi, però è chiaro che ritrae una società completamente diversa, da cui si evince la supremazia americana e lo stile economico e sociale che poi hanno imposto per forza di cose sul resto del mondo. Molto interessante e leggero da vedere. Numero 4, Pretty Woman, con Richard Gheer e Julia Roberts. La storia è molto semplice. Julia Roberts è una giovane escort un po' stramba che frequenta e si innamora di un pezzo grosso della finanza, appunto Richard Gheer. Il punto qua è proprio Richard Gheer, questo riccone che sembra poter comprare qualsiasi cosa, ma esattamente che lavoro fa? Richard Gheer è un rider, ossia un soggetto che compra aziende quotate, le chiude e vende gli asset separatamente. L'azienda non esiste più, i dipendenti vanno tutti a casa, ma il rider si fa un bel po' di soldi. Come può essere questo? Beh, questo succede perché il valore di mercato dell'azienda è più basso del suo valore contabile, cioè la somma dei suoi asset fisici. Da un certo punto di vista è proprio value invest in all'ennesima potenza, anche se portato avanti in modo spregiudicato. Pretty Woman è una commedia romantica, ma è anche uno dei primi film ad affrontare nel 1991 questo problema. E cioè la deindustrializzazione degli Stati Uniti e la pulizia di aziende decotte, distrutte dall'inflazione negli anni 70-80 ad opera di finanziari senza scrupoli. Per la precisione, Richard Gheer cerca di acquistare e smembrare un cantiere navale. Ma alla fine il film ovviamente vuole finire bene e quindi alla fine Richard Gheer compra sì il cantiere, ma non lo smembra. Anzi, investe assieme ai proprietari per avere navi più belle. Naturalmente la realtà non è così e cominciamo oggi a fare i conti con gli effetti della deindustrializzazione. Però vi avevo detto che era un film leggero e allora facciamolo finire bene. Numero 3. La ricerca della felicità di Gabriele Muccino con Will Smith. Il film racconta la storia vera di Chris Gardner, venditore di apparecchiature mediche che si ritrova senza tetto. Cerca in tutti i modi di trovare lavoro nella finanza e alla fine ce la fa. Fonda addirittura la sua società di brokeraggio e realizza così il sogno americano. Il film merita per la fantastica interpretazione di Will Smith, ma anche perché ci mostra l'ambiente delle società di brokeraggio al naturale, non in chiave controversa come in altri film. Chiama all'inizio degli anni 80 e la tecnologia non è ancora arrivata nel mondo dei broker. Gardner deve fare anche 200 telefonate al giorno per trovare clienti. L'ambiente è estremamente competitivo, ma per fortuna Gardner non ripulisce ignari investitori come fa Jordan Belfort nel lupo di Wall Street, ma trova come clienti i grandi fondi pensione americani, i famosi investitori istituzionali che si spera sacchiano quello che stanno facendo. Bel film, forse un po' emotivo in certi punti, ma sicuramente da vedere. Numero 2. Barbarians at the Gate. Questo film è un adattamento del famosissimo libro con lo stesso nome che tratta di una delle storie più avvincenti della finanza americana e segna forse l'inizio della finanza degli eccessi che conosciamo oggi. Siamo alla fine degli anni 80. Ross Johnson, CEO della RJR Nabisco, una gigantesca multinazionale di sigarette e biscotti, tenta un management buyout, cioè cerca di comprarsi la società. Ma si scontra con un colosso della finanza, Henry Crevis, fondatore del gigante dei fondi di private equity, KKR, quelli che stanno cercando di comprarsi Telecom per capirci. Dopo un braccio di ferro serrato ed estenuante, Ross Johnson ne esce perdente e KKR ottiene il controllo di RJR Nabisco per 25 miliardi di dollari, all'epoca la più grande acquisizione di sempre. Il tema è estremamente interessante e se ne potrebbe parlare per ore. Da un lato c'è Ross Johnson, il CEO che lavora per sé, che usa l'azienda come bancomat personale per finanziare uno stile di vita lussuosissimo. Tant'è che si parlava di una RJR Air Force, cioè tutti i jet privati che Johnson aveva comprato per sé con i soldi dell'azienda. Dall'altro lato ci sono i barbari, i barbari che intervengono per mettere ordine in questa situazione di grasso che cola. KKR, i fondi leveraged buyout, fondi che utilizzano denaro preso a prestito per comprare aziende inefficienti e ripagano il debito snellendo l'azienda all'osso. Perché sono barbari? Un po' perché come i barbari di Roma arrivano dove c'è denaro e corruzione. E un po' perché utilizzano strumenti barbari. Sapete come fanno a indebitarsi così tanto da comprarsi aziende multinazionali? Attraverso i junk bond, i cosiddetti high yield, i titoli spazzatura, inventati da Michael Milken proprio negli anni Ottanta che hanno azionato questa valanga di acquisizioni barbare che però forse servivano anche a dare una scossa al sistema corporate americano che stava diventando gonfio e corrotto. Oggi si chiamano fondi alternativi, private equity, e non sono più barbari ma investitori istituzionali a tutti gli effetti. Bel film da vedere? Ancora meglio leggere il libro. Numero 1. Una poltrona per due con Eddie Murphy e Dan Aykroyd. Visto che siamo in un periodo natalizio, non potevo finire se non con questa bellissima commedia finanziaria ambientata a Philadelphia nel 1983. Dei potenti finanzieri sostituiscono un vagabondo con il loro manager per provare che chiunque messo in quella posizione può essere un uomo di successo. Dopo aver capito di essere stati usati, il vagabondo e il manager si mettono assieme e mettono a punto la loro vendetta. Il film può essere letto da diversi punti di vista, satira sociale, commedia nera, ma dal punto di vista finanziario è interessante perché si ispira a un fatto vero, e cioè al tentativo di due fratelli miliardari, i fratelli Hunt, di manipolare il mercato dell'argento alla fine degli anni 70. Il progetto non va a buon fine e i fratelli si ritrovano in bancarotta, esattamente come nel film. Bellissimo film da vedere ogni Natale come faccio io. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace, iscrivetevi al canale. Se state cercando un corso di educazione finanziaria che vi aiuti a capire come potete costruire un portafoglio per il lungo termine, potete iscrivervi al mio videocorso Accumulare capitale, il corso pensato per chi vuole investire in autonomia. Trovate il link in descrizione qui sotto. Io sono come sempre Alessandro Lazzaro e ci vediamo nel prossimo video.